Siamo Elenia e sono di Trieste. Una donna narcisista mi ha rovinato la vita e questo è la mia storia, a commingiama. Nel 2018 ero fidanzata da sei anni con una donna. La nostra relazione però stava andando scemando, tant'è che mi misi su un social e incontrai questa ragazza. Inizialmente erano solo messaggi, videochiamate, ma lei mi faceva sentire importante. E così, prima di sbagliare, lasciai la mia fidanzata. I primi tre mesi con questa donna sono stati bellissimi, tant'è che lei a un certo punto ha insistito fortemente per venire a dormire a casa mia. Mi sembrava prematuro, non me la sentivo, però per non perderla accettai. Fatto sta che lei, dopo neanche una settimana, mi lascia, va via, così, da un momento all'altro. Il giorno prima mi diceva che mi amava, il giorno dopo se n'è andata. In seguito, quando io la chiamavo, lei si toglieva le cuffie per non sentirmi. Mi trattava malissimo. Mi diceva che con gli occhiali ero brutta, che ero grassa, che ero un'imbranata, che non sapevo cucinare. Mi faceva sentire così sbagliata, ma a contempo non riuscivo a staccarmi da lei. Sono stata malissima. Quando io piangevo, lei mi diceva, io lo faccio per il tuo bene, perché tu sei troppo ingenuo, hai bisogno di qualcuno che ti fa svegliare. E invece io vedevo che lei rideva. Mentre io piangevo, lei rideva e mi faceva sentire inutile, mi faceva sentire vuota. A un certo punto conosco un'altra donna e capisco che quella donna era una donna narcisista, che mi aveva tolto tutto. L'autostima, la dignità, la felicità, la serenità. E così inizio a frequentare questa donna. Questa donna mi ha salvato, mi ha fatto capire cos'è l'amore vero. Devo dire la verità, io non avevo mai avuto a che fare con una persona narcisista e non sapevo neanche che cosa significasse. Alla fine ho capito che una donna narcisista, un uomo narcisista, sono persone anaffettive, persone che hanno bisogno di conquistare e poi di lasciare le loro prede, prendendosi tutta la loro energia, tutta la loro dignità, tutta la loro vita. Grazie a questa donna sono uscita fuori, sono riuscita a uscire in tempo prima che la situazione diventasse ancora peggio. E faccio questo video per dire che io ho avuto la fortuna di capirlo in tempo, prima che fossi totalmente annientata da questa persona. Ma ho provato sulla mia pelle che cosa significa essere manipolata, che cosa significa stare con una persona che sa che ti fa male, ma che non riesce a stare senza. Bisogna andare via, prima che ci distruggano completamente. La cosa purtroppo è che non te ne rendi conto subito, perché inizialmente sembra tutto bello e loro ti fanno vivere in un mondo fatato, dove tu sei speciale. E come ti danno tutto, così tutto te lo tolgono, da un momento all'altro. È come se all'improvviso ti mancasse la terra sotto i piedi. Poi mi sono documentate, ho visto che i narcisisti sono delle persone che possono veramente fare molto male. E io l'ho capito sulla mia pelle. Buona vita. Grazie.